Dalle parole di Laura Boldrini fino all'attacco di Lilli Gruber contro Giorgia Meloni, accusata di essere espressione di una cultura patriarcale, proprio quella cultura secondo cui, per la sinistra, sarebbe maturato l'orrore commesso da Filippo Turetta. A Gruber, Meloni ha risposto in modo duro, sui social, postando una foto di lei, della madre e della figlia. Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo. Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilli Gruber nella sua trasmissione di ieri sera è che io sarei espressione di una cultura patriarcale, scriveva il premier. E ancora, come chiaramente si vince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di cultura patriarcale della mia famiglia. Davvero senza parole, concludeva Meloni. E ancora, Gruber ha replicato accusandola di essere poco abituata alla democrazia, secondo Lilli, insomma, vietato replicare a un attacco del genere. Ovviamente il caso tiene banco a otto e mezzo, il programma condotto dalla Gruber sulla Sette, nella puntata di martedì 21 novembre. Ospite in studio Mario Secchi, direttore di Libero, protagonista di un'accesa discussione con la padrona di casa. Il problema di fondo è il fatto che una presidente del Consiglio attacchi personalmente un giornalista, normalmente nelle democrazie mature non accade. La ipersensibilità alle critiche, nel caso specifico, è un segno di forza o debolezza? La ipersensibilità alle critiche, nel caso specifico, è un segno di forza o dibolezza. La ipersensibilità alle critiche, nel caso specifico, è un segno di forza o dibolezza. La ipersensibilità alle critiche, nel caso specifico, è un segno di forza o dibolezza.